E mi guarda la carrozza delle regine magiche! Ah, non c'è nessuno! Corri, voglio vedere se hanno gli strumenti per ballare! Oh, che bello! Hai ragione, potremmo divertirci insieme! Perché stiamo ancora urlando? Non lo so! Ragazze, ragazze, correte, venite qua! Ragazze! Charlie, che succede? Sembra importante! Niente, stiamo giocando a nascondino e non le trovo! Lasciali nascoste, guarda cosa c'è qui! Cosa? La carrozza delle regine magiche! Davvero? E non c'è nessuno? Non ci sono le regine? No, le ho viste andare via a fare non so cosa! Cose magiche, sicuramente! Approfittiamone, ho molta voglia di giocarci! Ma dobbiamo avvertire le altre! Lasciali, andiamo io a te prima che tornino le regine! Sandra, non possiamo farlo! Oh, va bene! Vediamo dove si sono nascoste! Sei una guastafeste, Charlie! Oh, guarda! Ma cos'è questo? È la carrozza delle regine magiche! E non c'è nessuno! E c'è anche la sala da ballo pronta! Che bello! È il posto ideale per la mia festa con le ragazze Dressa Party! Ragazze! 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 Che succede, Piki? Girati! Oh, l'autobus delle principesse incantate! La carrozza delle regine magiche, Bumbelina! Ecco, questo è l'ideale per una festa in maschera! Facciamo sempre feste in maschera, Piki! Ma qui possiamo ballare, fare un bacchetto e tante altre cose! Hai ragione! Cerchiamo le altre! Dove sono? Non ne ho idea! Ho urlato per chiamarvi, ma ci sei solo tu! Ah, è che stavamo giocando a nascondino! Me ne ero dimenticata! Corri, aiutami a trovarle, Piki! Sì, ma veloce! Dobbiamo approfittare della carrozza! Charlie, le nostre amiche sono bravissime a nascondersi! Non riusciamo proprio a trovarle! Hai ragione! Andiamo noi a giocare con la carrozza! È stupenda! Guarda il diamante! Brilla! No, neanche a parlarne! Se giochiamo senza di loro, si arrabbieranno e non vorranno più essere le nostre bestie! Dura essere bestie, eh! Ma ne vale la pena! Andiamo! Mi sono stufata di giocare a nascondino! Bumbelina è pessima a giocarci! Charlie, guarda! La carrozza delle regine magiche! Ah, non c'è nessuno! Corri, voglio vedere se hanno gli strumenti per ballare! Oh, che bello! Mi stai davvero dicendo che non solo non hai trovato nessuno, ma hai anche perso Sandra! Non sono brava a questo gioco! Guarda! La carrozza! Oh no! Che succede? È stupenda! Certo che lo è! Ma guarda, il cassetto è aperto e gli strumenti non ci sono! Qualcuno è stato qui! Saranno state le regine magiche? Ci sono due opzioni! O le regine sono qua e non saranno per niente contente del fatto che usiamo le loro cose, o... O? Oppure ci sono i ladri e le regine magiche sono stupende, ma se si arrabbiano è meglio non stare loro tra i piedi! Andiamo a cercare le altre e vediamo cosa fare! Sono stanchissima di correre, Charlie! Ragazze! Posate quella cosa! Ci metteremo nei guai! Oh, che bello! Oh, che bello! Come mi diverto! Oh no! Viene qualcuno! Se sono le regine siamo davvero nei guai! Charlie! Charlie! Fischi! Venite qua! Fermi! Ma ho vinto io a nascondino! Voglio festeggiare! Guarda! Oh! Ma chi sono? Eh, chi siete? Siamo le Dressa Party Girls e stavamo giocando qui! Chi siete voi? Io sono Charlie e siamo tutte besti tra noi e stavamo giocando proprio qui! No! Noi stavamo giocando qui! Noi abbiamo visto per prima la carrozza! No! L'abbiamo vista prima noi! Ma ci siamo distratte perché stavamo giocando a nascondino! Anche noi stavamo giocando a nascondino! Noi siamo scarse! Sì, anche noi! Vince sempre Sarini! Le altre siamo pessime! Eh? Vogliamo giocare con la carrozza prima che tornino le regine! Anche noi! La carrozza è enorme e ha un sacco di cose! C'ha spazio per tutte! Hai ragione! Potremmo divertirci insieme! Perché stiamo ancora urlando? Non lo so! Potremmo travestirci insieme a voi! Sì! Certo! Che bello! Come mi diverto! È bellissimo! Che bello! Pini Ponghi Taipon! 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 Pini Ponghi Taipon!